Buonasera, buonasera anche da parte mia, grazie per essere qui a paucina Perfetto, vedo che già conoscete in pratica Perfetto, adesso Adesso è semplice Adesso è semplice In pratica ogni coppia deve seguire Ognuno di voi fa quello che facciamo noi Quindi adesso ci metteremo per lungo, tutti per lungo in piazza, tutti per lungo Dobbiamo all'entrarci anche se stringiamo un pochettino Dobbiamo stare tutti per lungo, non rotatoria, tutti per lungo Dobbiamo stare tutti per lungo in piazza, stringiamo, 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 ci dobbiamo stare Forza, forza, forza Era meglio se ci dividivano i gruppi, però ci dobbiamo stare Perfetto, facciamo due linee parate 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 Facciamo due linee parate